Ragazzi, oggi vediamo qual è la migliore sottoclasse per il monaco in Dungeons & Dragons 5th edizione. Realizzo questo video dato che me l'avete richiesto con un commento, quindi se volete il prossimo di video dedicato alla vostra classe preferita, commentate anche voi. E ora iniziamo! La scelta non è stata semplicissima. Al contrario del primo video di questa serie, che era dedicato al Chierico e che se volete potete recuperare cliccando sulla scheda qua in alto o cercando il link in descrizione, non c'era per il monaco una singola sottoclasse così più forte rispetto a tutte le altre, in modo schiacciante. Ma, tra le sottoclassi migliori, vi ho scelto quella che ottiene buoni privilegi a tutti i livelli, non lasciandoci mai tristi perché magari il privilegio di quel livello lì è una roba un po' scarsina. Inoltre va ad espandere il nostro ruolo all'interno del party di Dungeons & Dragons, rendendoci più utili in più situazioni rispetto a quello che fa solitamente il monaco. Inoltre è carina, almeno secondo me, anche a livello di caratterizzazione. E poi è quella che ho più visto giocare dei miei amici powerplay. La sottoclasse in questione è quella del monaco della misericordia presente nel manuale di Tascia. Appena la prendiamo, ossia al terzo livello, otteniamo la competenza in intuizione e medicina, che essendo entrambe abilità basate su saggezza, non è male per un monaco. Anche se in medicina spesso non serve a un ca... Dopodiché otteniamo una maschera speciale, adatta ai monaci che intraprendono questa via di specializzazione. Essa, a livello di meccaniche di gioco, non fa cambiare nulla, ma aggiunge, secondo me, un simpatico tocco di caratterizzazione alla sottoclasse. Sempre al terzo livello otteniamo Mano Guaritrice, con cui possiamo curare i nostri alleati, spendendo un'azione e un punto ki, di un numero di punti ferita, pare un tiro del nostro dado di arti marziali, più il modificatore di saggezza. Oppure possiamo usare Mano Guaritrice, al posto di uno dei colpi garantiti dal privilegio del monaco, raffica di colpi, senza dover spendere azioni o punti ki aggiuntivi. Chiariamo che non si tratta di un sacco di punti ferita curati per volta, ma siccome basta anche solo un punto per far riprendere il combattimento a un nostro compagno morente, ne vale sicuramente la pena. Inoltre, visto che i monaci recuperano i punti ki anche solo con un riposo breve, il totale che possiamo curare durante un intero giorno di avventura è assolutamente rilevante. Tra l'altro questo è anche un ottimo modo per spendere i punti ki rimasti prima di un riposo breve, mentre durante il combattimento il privilegio è ovviamente da utilizzare in combinazione con la raffica di colpi, così da non sprecare la nostra azione principale e poter anche attaccare in contemporanea. Sempre al terzo livello da monaco della misericordia, otteniamo Mano del Dolore, che ci permette, quando colpiamo un nemico con un colpo senza armi, di infliggere danni necrotici extra, pare un tiro del nostro dado di arti marziali più il modificatore di saggezza. Questo privilegio può essere utilizzato massimo una volta per turno. Partiamo col dire che il tipo di danno, ossia necrotico, è buono, perché pochi nemici resistono adesso. Inoltre, questo privilegio applica dei danni extra quando colpiamo, e noi sappiamo che i danni extra raddoppiano durante i critici. Visto che possiamo decidere di utilizzare il privilegio dopo che abbiamo colpito, e quindi dopo che abbiamo visto che il colpo è effettivamente un critico, possiamo decidere di fare un bel po' di danni al momento giusto. Il privilegio di sesto livello, invece, fa diventare più efficaci sia Mano Guaritrice, sia Mano del Dolore. Quando curiamo i nostri alleati, possiamo anche porre fino a una malattia, o a una condizione tra accecato, assordato, paralizzato, avvelenato o stordito, al nostro bersaglio. Veramente top! Mentre quando utilizziamo Mano del Dolore, possiamo imporre al nemico la condizione avvelenato fino alla fine del nostro turno successivo. La condizione di avvelenato è veramente infame, dato che impone svantaggio a tutti i tiri per colpire e alle prove di caratteristica. E se avere svantaggio ai tiri per colpire è scontato che sia una bella ronia in combattimento? Anche averlo alle prove di caratteristica lo è, dato che le prove di lottare e spingere una creatura sono prove di forza, e quindi potremo approfittarne contro i nemici che avveleniamo. Arrivati a questo punto, vi ricordo che tutti i privilegi che abbiamo ottenuto fino adesso sono di livello 3, a parte l'ultimo che è di livello 6, il che è ottimo, perché vuol dire che questa sottoclasse va subito a renderci più forti e caratterizzati senza aspettare livelli alti o robe del genere. E comunque anche i privilegi di livello alto non sono mica male. A partire dall'undicesimo livello possiamo utilizzare mano guaritrice gratis quando utilizziamo la raffica di colpi su entrambi gli attacchi, e non su uno solo, sempre senza spendere punti chi. Quindi possiamo curare con il doppio dell'efficacia. Inoltre anche l'utilizzo di mano del dolore diventa gratuito quando utilizziamo la raffica di colpi, anche se in questo caso siamo limitati ad un solo utilizzo per turno. Insomma, dall'undicesimo livello in poi, la velocità con cui consumiamo i nostri punti chi si ridurrà drasticamente. Veramente forte! E se questo era il privilegio solo di undicesimo livello, quello di diciassettesimo cosa fa? Resuscita i morti? Esattamente! Una volta per giorno, spendendo un'azione e 5 punti chi, possiamo resuscitare una creatura morta nelle ultime 24 ore. Visto il costo di attivazione, questo privilegio è anche facilmente utilizzabile in combattimento. Inoltre, se non avete più punti chi, ma avete bisogno di utilizzarlo, basta che facciate un riposo breve per recuperarli. E questo era quanto per la migliore sottoclasse del monaco. Se il video vi è piaciuto, metteteli un bel like e condividetelo con i vostri amici. Inoltre, se vi iscrivete al canale, non vi perdete i miei nuovi video a tema D&D. Alla prossima settimana! Iscriviti al canale,